Ciao ragazzi a tutti, sono Ian, benvenuti, bentornati, anzi, in questo nuovo video che non è una League of Learning ma è una mia trollata, perché sto usando Brand Jungle, quindi direi che è abbastanza una trollata, è abbastanza una trollata, fammi vedere un attimo un pochino. Boss Attack Speed, Boss Attack Steals, Barron Damage, Incristo 50, però non evitano neanche, direi che è il caso di mettere questo qua. Ok, allora ragazzi, perdonatemi se ieri non ho fatto per l'appunto video, perdonatemi se non ho fatto video ieri ma mi sono svegliato a luna, mi sono svegliato a luna e era un po' difficile farlo, cioè l'avrei fatto ma l'avrei fatto uscire alle 4, però è buono, non avevo voglia. Cosa state facendo? Boom! Allora, già abbiamo iniziato male, già abbiamo iniziato molto male perché ci stanno invadendo. Allora, vi stavo dicendo, giusto per fare una piccola introduzione, la League of Learning la facciamo 6 volte a settimana da lunedì al sabato, 5 volte il sabato e domenica, a piacere come sto facendo video così a scazzo, a scazzo, altrimenti mi sveglio la mattina e decido, boh, ciao, 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 voglio giocare questo stamattina, tipo Brian Jungle per esempio, che volevo vedere se ancora funzionava perché lo usavo un sacco di vecchio qua. Ehm, dicevo, faccio così oppure lo volete seguire la settimana e la domenica comunque sempre un game così ad cazzum. Fatemelo sapere nei commenti, vi metto anche il sondaggio, che penso che ormai abbiate imparato come si fanno, vi metto anche il sondaggio, così mi fate sapere la vostra opinione, la vostra opinione, thanks a lot, ma avete fatto un pull? Stupendo, grazie mille. Ovviamente, eh, ovviamente ho dovuto usare la ward, porca troia. Perfetto, allora, questi non posso ancora farmeli perché finché non ho 3 skill non faccio l'attacco ad aria e quindi, aha, unlucky. E quindi unlucky, allora, usiamo la E che fa molto danno all'inizio, ok, in teoria io dovrei attaccare prima loro, eh. Io dovrei attaccare prima loro, in teoria, perché se attaccate il piccolo, cioè se attaccate prima i piccolini, il, eh, poi quello grosso vi, non è che vi farà più danno, ma non, non riuscirà a farvi così tanto danno. Però porca puttana sto perdendo un casino di vita, sto perdendo un casino di vita a primo, punto primo, secondo non ho più mana. Forse non dovevo farlo, sto qua, devo andare direttamente al blu. Mmm, my bad, I guess my bad, questo qua dovrò kaitarlo. Fin tanto che c'ho il red, fin tanto che c'ho il red dovrò kaitarlo perché come potete vedere io non ho neanche una goccia di mana e quindi senza mana un champion come brand non fa un cazzo! Eh, 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 ok, aia, ok, ok, ho però detto, di autoattacchi spacco, eh, di autoattacchi spacco però, perfetto. Adesso che abbiamo tre skill, le cose si fanno interesting, io direi di andare a gankare il signor Garen, che non lo ammazzeremo mai nella vita, soprattutto perché abbiamo Mokai contro, cioè abbiamo Mokai nel nostro team, però, ci si può provare, eh no, ok. Non ci si può provare, non me lo lasciano fare perché il Garenno, a quanto pare, lo sapeva. Ok, la passiva di Brunzi applica ai mostri della giungla, per quello lo sto usando jungle, non per altro, perché altrimenti sarebbe stata una, veramente una castroneria. Però il mio team sta perdendo tutto, raga, dai, che già io sto trollando, se potete trollate anche voi, siamo nella merda qua. Siamo veramente nella merda. Comunque farò molto bene, eh, cioè, farò molto bene, non si direbbe a far molto bene. Adesso guarda cosa vi faccio vedere, andiamo qua, ci mettiamo qua dietro, letteralmente qua dietro, utilizziamo l'ai e la q per stunnare quello grosso, usiamo la w e la malattia si espanderà a tutti. In teoria, eh, questo, in teoria, se non ho fatto bene i calcoli, permesso. Ok, perfetto, e ora dovrebbero esplodere tutti quanti, però non ho fatto un cazzo di danno! Aaaaaaah! Aria, che male! Mi fanno malissimo! Ok, 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 non posso. Ok, non posso. Ah, prendiamoci questo. Ok, non posso. Va bene, pappagalli, ciao. Pappagalli, non vi voglio più vedere. Pappagalli, non vi voglio più vedere. Non posso farve... Non posso farvi pappagalli, fanno malissimo! A parte far malissimo, cioè, hanno troppa vita! Ma che cazzo sono, pappagalli geneticamente modificati? Allora, io c'ho come... Come keystone, come keystone... Oddio, questo qua ha già fatto mille e minio. Come keystone c'ho il... I boots del pred... Ora li faccio perché c'ho lo smite. Come keystone c'ho i boots del... Del predatore, che letteralmente mi fanno correre Come un maiale Se riesco a canalizzare Il cadraio e i danni che mi fate, bastardi Mi fanno correre come un maialino Se riesco, per l'appunto, a... A far la canalizzazione Ho perso il blu però, porca droga Eh, ok Ok Devo fare una cosa che abbia del mana Vieni qua da me Pappagalli un po' qua Allora, io devo... Devo gancare qualcuno perché... Altrimenti I'm useless Però non mi fanno gancare nessuno Sono un po' costretto a fare un cazzo Perché non posso fare niente Proviamo qua, dai Let's go! E ti ho preso E mi puoi aiutare gentilmente, signor... Hello? Help? Non so Io ti ho gankato Ma te te ne sei sbottuto i coglioni, eh Cioè non ti ganko più se mi devi sbattere il cazzo Va bene No, comunque abbiamo visto che funziona sto coso Perché ci dà un bot di movement speed Però il signor Il signor Talon Ci ha detto ah si tu mi ganchi E a me non me ne frega un cazzo Mi ha detto letteralmente così Mi ha detto tu mi ganchi A me non me ne frega un cazzo Peccato vabbè fa niente Allora andiamo subito a farci Uno e uno due Andiamo a farci uno e uno due E poi boh andiamo a botlane Che però non riesco a ganchare nessuno Più che altro perché sono pushati quando non devono Ok qua smiteiamo Aia Aia Tutti quanti i mob mi fanno male cane Come giusto che sia Non è che mi aspetto molto Non è che mi aspetto molto Se devo essere sincero Lo sto trollando io Non è che posso aspettarmi di fare danni Però quello che mi vorrei aspettare È che Talon sia un completo bustato Uh per Peccato 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 perché c'ha C'era quasi riuscito Allora c'è lo smite in 28 secondi Questo Devo per forza Kaitarmelo Ok Devo fare 323 Not bad Not bad Avrei bisogno di smitarlo Purtroppo Purtroppo non ho mana per fare la prossima spell Eh 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 Ok Devo ricallare un'altra volta Lo so La mia jungle è I'm coming La mia jungle è un pochino lenta Ma è normale Ma non vi preoccupate Io sono forte dopo Ora gankerò a spam Ora gankerò a spam Ora gankerò a spam Ve lo prometto Ho solo bisogno del blu Allora Let me get blue And I will permagank everywhere Trust me Trust me Allora Poi prendo il blu E poi prendo la gankerò ovunque Il problema sarà lui Non lo ammazzeremo mai C'è anche le mercury Impossibile che lo ammazziamo Quindi top lane Sarà da ignorare Bot lane Talon sta gankando In teoria dovrebbero farla kill Ma in pratica no Vabbè non è un problema Arriverò poi io eh Ok Ah 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 It's bad Ok Perfetto Abbiamo la R Uh Qua c'è passato Jax Sì ah ragazzi Però Il nostro mid lane Era un po' scarsetto Ma è 28 CS A 58 È parecchio brutto Da vedere Vabbè È una flex È una flex Più eh Siamo la Di domenica Quindi non mi sento di Cioè è scarso Ragazzi Che ci possiamo fare È scarso Non possiamo recriminarlo Troppo Se solo mi aspettavano Probabilmente facevamo qualcosa Se solo mi avessero aspettato Allora qua Come prima Adesso che Che c'è lo smite Comunque Dovrebbe essere molto meglio Perfetto Perfetto Poppy sta flammando Ma noi Non ci interessa I have no fucking comments Of this so called gang Eh mate Devo ancora arrivarci Devo ancora arrivarci Ah penso che ce l'avesse con Talon Molto probabilmente ce l'aveva con Talon Ok Questi dovrebbero morire in fretta Oh adesso comunque Ora che c'ho il blu e tutto quanto Ora che c'ho il blu e tutto quanto Me li faccio abbastanza in fretta I I campi eh Prima era un disastro All'inizio era letteralmente Un disastro Però Eh Adesso dovrei Riuscire a prendere qualcosa Anche perché ho più CS di questo Bisogna killare Vein Non so in che modo Ma bisogna killare Urca troppo È arrivato Ok Allora Quello si è preso Il giorgino Il drago è ancora al posto Vorrei gancare mid Ehi Tutto mi ridi dalla mano eh Oh cazzo Ma da dove è arrivato Aiuto Ah No 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 Non mi uccido Non mi uccido Non mi uccido Ah Vabbè Taro è troppo scarsa Vabbè È colpa mia Qua è anche colpa mia Più che altro Dovevo stunarlo subito Non sapevo avesse il flash Non sapevo se avesse il flash o meno Però tu amico Fai veramente cacare Fai ancora più cacare di me E questo è tutto un dire Ah Cosa posso fare? Quasi quasi mi prendo subito le scarpe Quasi quasi mi prendo subito le scarpe Perché almeno sono più veloce Vai Non è ancora detto l'ultima parola Stiamo fidando Ok Stiamo gankando come la merde Però Sono convinto che possiamo ancora fare qualcosa Ehi 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 Devo andare bottling però La bottling è nostra speranza Abbiamo Jean Contro Vayne E non sta neanche farmando male Nonostante sia 0-3 Devo assolutamente gankare lui Devo assolutamente gankare lui Quindi fatemi prendere velocemente questo Questo campo Lo 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 dai Arrivò Attacca 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 Vai 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 Mi sa che non va Mi sa che non ci va Ok Lasciamolo perdere Facciamoci il gromp Talon Non so cosa stia facendo È un po' privato il tipo Probabilmente è tornato alla discoteca da poco Può darsi eh Cioè Alla fine siamo domenica mattina Quindi È abbastanza comprensibile Se fosse così Ok E adesso Andiamo a botten Andiamo a botten Adesso devo gankare per forza C'ho 51 alle Purtroppo Ho 51 alle Alle scarpe Mamma mia Ryze lo devasta Talon Ryze lo devasta Talon Ma raga ma perché non mi aspetta Ah ok bravi 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 Arrivo 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 Ma penso che non ce la facciamo anche senza di me Ok Eh bene bene Venite qua allora Venite qua che ci facciamo sto coso Anche se vorrei gankare Ryze ma gankare Ryze è inutile Gankare Ryze è inutile Semplicemente perché Perché talon Non ha Non ha nulla Cioè non è Non è forte Talon non è forte abbastanza Vedete ci muore Ci muore in solo Quindi Sarebbe totalmente inutile Per fortuna che talon E sempre sarà utile In late game Quindi Sempre sarà utile In late game Io intanto Zitto zitto Mi sono fatto Il mio draghetto Un ocean Che ci darà Una mano Soprattutto Soprattutto ora Che stiamo così Così behind Mi faccio il red Vedo se riesco a fare i pappagalli Ma dubito Seriamente Ok Cerchiamo di Caitarlo il più possibile Ok Ora faccio abbastanza danno Opla Opla Mettere le scarpe È stata la cosa migliore Mettere le scarpe È stata assolutamente La cosa migliore Che potesse venire in mente L'idea Più Bella Che mi potesse venire in mente Torniamo back Torniamo back Non si può sentire Andiamo back Ci prendiamo Questo Che ci dà anche un po' di velocità di movimento Ci prendiamo questo qui E tiriamo dritto Abbiamo 413 di movement speed Il che non è male Allora Mi faccio il blu Vedo se riesco a farmi questi Talon purtroppo lo devo ignorare Perché Raga non lo killiamo Sto tizio Cioè Wow Ma la cometa o Airi Mi sa che ha Airi Ok Però due colpi di torno Non sono bad No ma non lo kill Ecco Ah Gli hanno fatto il sandwich Gli hanno fatto il sandwich Gli hanno fatto Probabilmente Jax ven da me Probabilmente Jax Eh infatti Io L'ho preso io L'ho preso io Bestia L'ho preso io Perché me lo sbaglio No 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 Poi c'è Leona Dai Vayne Vayne va dai vata Raga Vayne va dai vata Letteralmente va dai vata Vayne Per forza Per forza di cose Visto che Leona non c'è Andava dai vata Immediatamente Proprio Andava dai vata Immediately Ma cos'è L'ho scritto in all No non l'ho scritto in all Ok Perfetto Qua Wev cleariamo e basta Aia Fa malissimo sto tipo Raga fa malissimo Fa un male che manco immaginate Devo andare botte Arrivo J'arri J'arri Così così aspetto che No Si fanno le Erold Eh non può sparci nulla Ma è possibile Questo ci muore Questo non Non voglio sentire scuso Si deve morire Si deve morire questo Ok Arriva Vayne Arriva Vayne Madonna leona mi assolato Però in teoria Benissimo E' worth E' worth E' worth E' worth Perché Gino ha preso dei kill Se si prende anche il double buff Se si prende anche il double buff È ottimo Bravissimi Puppi Ok Tutto a worth Tutto a worth A parte per l'Earald Ah no no E' buonissimo Ah no Non è buonissimo Non me ne ho accorto Non è buono Ok ci facciamo la maschera Ci facciamo la maschera Perché Loro hanno Uno due Tanchini Anche leona Eh è stato un po' Un brutto tp Questo amico Perché Non la difendi questa torre E' andata questa torre Questa torre è andata I will not falter Mamma mia Quanto danno fa Garen Ha già il black cleaver No Wow Garen fa malissimo Arrivo 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 Tu ci devi morire Tu ci devi morire Sta arrivando Madonna ma che cazzo è sto Garen Una macchina Ti devi morire C'è morto C'è morto C'è morto C'è morto C'è morto Attenzione Attenzione il brand Il brand giungla Non ha fatto un cazzo per Letteralmente 15 minuti Ma ora si è svegliato Attenzione No no ragazzi Quel talon Non c'è quel talon Quel Jax Urku 2 C'è anche Ryze Ragazzi c'è anche Ryze C'è anche Ryze Non possiamo Mamma mia Sto talon Sto talon Sto talon è molto 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 Non dico cosa Molto bruciato Eh vabbè No 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 Eh vabbè ma addirittura 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 Mi hai flashato in faccia Peccato che ho missato la Q Se non missavo la Q Probabilmente lo pillavo Vabbè flash lui Se non missavo No ma che sto il render Se non missavo la Q Probabilmente ce la facevo pure Mh Mascherina Burco Allora ma mi manca ancora Mi manca ancora un bordello Peccato che il nostro talon Sta initando ma veramente pesante Perché è 1-8 1-8 con talon Non è per niente bello Anche bottene sono morti Surrender nab No we don't We don't surrender We can win We can win Late Ridatevi di me Possiamo vincere Possiamo vincere Allora mettiamo la Poppy Perché tanto non Non dirà nulla di utile al game A parte che Amica Amica Non hai le ward Però vabbè Soprasediamo Facciamo finta che le abbia Va bene Facciamo finta che Poppy Abbia le ward Posso andare ad aiutare Garen Oh porca Questo vai su questo Vai su questo Vai su questo Vai su questo amico Arrivo 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 Morto è morto è morto è morto è morto Nice WP Vedete vedete Tra l'altro Poppy mi ha dato l'assi Cioè letteralmente mi ha Mi ha Mi ha tirato con la sua E Garen sulla mia Q Bellissimo Sinergia ottima Ottima synergy Ok Oh io sto prendendo kill Attenzione Quel Drake mi piacerebbe tanto averlo Perché è un cloud E mi aiuterebbe Soprattutto con le scarpe che ho preso Devo aiutare talon vero Lo dai ma no Probabilmente lo dai ma no Ok Vabbè Non così bad No Not so bad Che cazzo fai La cucaraccia Balla Balla la cucaraccia Per 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 dodgiare le skill shot Oh comunque È morto eh Guys È morto È Worth We win this Resiamo il morale Cioè aumentiamo il morale Aumentiamo il morale del team Attacca possiamo vincere Possiamo vincere Io mi metterò Dopo questo Buono Molto buono Dopo questo Mi metto il relay Crystal scepter Così slow E facciamo più sinergia con Con le scarpette Perché è slow Io mi velocizzo Insomma avete capito L'antifona Un attimo che Devo difendere Stato Prima di prendermi il buff Questo qua è totalmente Attack speed What? No ho sbagliato Vabbè vaffanculo Not bad Not bad WP WP boys WP boys WP Ottimo Vabbè questo è un po' meno ottimo Tano non so perché si sia suicidato su Su Come minchia si chiama Su Jax Però non è importante Questa la mettiamo qui perché ho paura che mi venga a rompere Il cazzo Perfetto 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 Adesso questi in teoria Ora dovrei farmli senza problemi No? In questo modo Oh Perfetto Questo è quello che E voi due? Oddio sopravvissuti Ah ok Questo è quello che volevo vedere Peccato che all'inizio non si può fare Eh sennò sarebbe un po' OP eh Sennò giocherebbero un po' tutti Sto imbrangiando Sennò lo giocherebbero veramente un po' tutti Oh Finalmente ora che ho un bel po' di AP Posso fare I campi alla velocità della luce Ed è proprio quello che volevo Boh Mi dispiace non dare il blu a Talon Ma purtroppo non credo che gli servirà Visto quanto sta fidando Meglio Meglio darlo a me Cioè meglio prenderlo Da me Oh arrivo 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 Scarpetto 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 Corro 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 Non serviva un cazzo le scarpette Non servivano un cazzo Quale scarpette Le ho un po' Le ho un po' usate male Talon mi sa che ci rimuore Vero Vabbè che non dà gold lui Non dà gold Però sta scappando Sta scappando come un furetto Oddio guarda quanto c'è Una Q e muore Vabbè il flash ci sta eh Raga però qualcun Ma Non tutti quanti Se no la torre qua cade Ci vengo io a difendere la torre dai Ah no Ah no Loro non Oddio proprio Proprio di prepotenza Proprio di Proprio di prepotenza C'è nel senso Aia 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 Dio santo Vabbè my bad Cazzo ci ha distrutto Jax più che altro Jax ci ha distrutto Ok Va bene questo Ci prendiamo come abbiamo detto prima Uno e uno due Così siamo anche un po' tancosi E poi dopo potrei farmi un rabadon Giusto per fare molti danni Anche un lud non mi pare male Mi pare che non ho cd Ah non è vero che non ho cd Sei otto di No non ho cd Non ho proprio cd Avrei bisogno di mettere Degli item con Con cooldown d'action Anche se non è su questo Che Brun si Si basa Brun è un champion da Non sembro Ma è un champion da burst Perché una volta finito il giro di spell In teoria dovrebbe aver distrutto Demolito chiunque Poi con la R Insomma Lì ho Lì ho sbagliato Qua ho sbagliato Sapete che ho sbagliato A parte che non avevo visione subito Dovevo immediatamente Usare la R Così da fare tutti i rimbalzi Del mondo Che si muore Dove usare immediatamente la R E poi E poi E poi di conseguenza fare Il restante giro di spell Uh l'ho spunnato quello Mettono Non posso darti una mano Cioè Oddio santo Ha flashato il tipo Ha flashato il tipo Non prendo una spell Talon non ha scappato Deve non ha fatto un cazzo Strano Strano forte Eh raga Purtroppo Talon è veramente Un peso grossissimo Cioè Non ha nulla Sta facendo il black cleaver ora Che non è neanche del tutto sbagliato Ma È troppo un peso E Jax è veramente grosso Jax l'è veramente grosso Mmm Come possiamo ribaltare la situazione Beh qua non ha nulla da prendere Quindi basta stare attenti Io posso andare A rompere il cazzo Al suo blu Ma non se lo possono fare il bar Non c'è ben qua Posso andare a prendere il blu Anche se non lo smite Ma non dovrebbe servire Ora Lì c'è Spero che non mi vedano Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Dai ma come minchia Ma come cazzo mi hai preso Cioè tu me lo devi spiegare Mi devi spiegare come mi hai preso Oh mio dio Che noiosa Dai ma che noiosa Ma c'ha tutto Ma c'ha tutto Ragazzi come fate a morire Ma come fate a morire tutti Chillate sto tizio Minchia Tira le carezze Il tipo No no Tira le carezze Talon Cioè cura Talon cura Invece di far danno Talon cura Questo è mortissimo Ben sta facendo il giro da qua No non c'è neanche la Oh che culo Che c'era la piantina Di mokai Madonna leona Madonna leona Che noiosa Avete visto che noiosa Mi chiama Ma c'è stato da qui Fino a qui Fino a qui Letteralmente Con la E Con la Q Con la ulti Con dedutto 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 Sapete che cosa vi dico Ho bisogno di AP Immediato Quel drago è un altro cloud Voglio il mio red Però I need my red I need my red But before I need to save this tower Questo è buono Ma dai Ma ho missato Ascolta Dovete morirci Non me ne prego un cazzo Dovete morirci Dovete morirci Dovete morirci Eh 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 Scusami eh Ho messo la La maschera apposta Perché siete tutti quanti tankosi Porco due No ma dai Ma mi Ma mi trolla Poppy Poppy mi trolla Raga Poppy mi trolla Stop trolling me Poppy Muori bastarda Poppy mi trolla Mi trolla Mi trolla con la sua E Quello è il problema Mi trolla con la sua E Quando io Tento di fare Chi è? Si piatelo tu va Quando io Oh piatelo Quando io tento di Di fare il mio stun Lei con la sua E Me li porta via Eh lo so Quel drake era buono Eh lo so Amico Si era buono My bad Però non volevo che mi stiava sul blu Wow quanto l'hanno fatto Quel drake ci serve Cloud And si My bad My bad Ok andiamo subito Va Vieni 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 Non ho lo smite però Ahia Too late No it's not late It's not E invece si Decisamente è in ritardo Però loro non paiono Molti interessati a farselo C'hai capito? Oh mio dio Che succede qua? No 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 È bad 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 Oh 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 Ho ultato Ho ultato Ragazzi Salvatemi da Garen Salvatemi da Garen Eh vabbè Unlucky Eh ma Poppy non c'è Vai Dovrebbe uscirelo Nice Peccato Ah Jins la sta giocando molto bene Peccato che Poppy join us You can't split Your para support Vediamo cosa ci dice Secondo me ci insulta Eh abbiamo bisogno di lei Bradshotfk Ah ok È incazzato con favore lui Vabbè sta trollando È abbastanza inutile I am playing my game But we need all Abbiamo bisogno di tutti quanti Lì avremmo vinto con Poppy Purtroppo io devo flashare Da sto tizio che mi ha caricato Mi ha letteralmente caricato Cosa posso mettere per evitare Che mi scioglia Mi sciolga l'ano Ma dubito Penso niente Qua dovremmo fare un baron Se non se lo stanno già facendo loro Ho paura che se lo facino loro Usiamo le scarpette predatrici Vai corri Brad Corri 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 Quanto anni l'ho fatto Not too bad Not too bad Considerando che è tankosissima No Non ci passo di qui Considerando che è tankosissima Engage Bisogna fare un ace Engage 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 Ok 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 Ora è buono Ora è buono Se riusciamo a killare Anche qualcun altro Ma vabbè Ma mi trollano tutti Tutti mi trollano Tutti mi trollano Dat chiuma Ok I didn't stun Cause you Knocked back In Lel Madonna Mi trollano tutti Mi trollano tutti Incredibile Youpidor Cazzo guarda i pidor Eh mi trollano tutti Mi trollano tutti Ma è che abbiamo sbagliato il focus Cioè più che altro Andiamo a agrupparci su vain Ma io non Il problema è che Mi vengono tutti addosso Mi vengono addosso lui Mi vengono addosso lui Lei è un casino Mercury Mercury Lei è veramente un casino Quel baron poteva essere nostro Perché Avevamo fatto Cioè Qua era buono quel fight Prima che andava killata vain Andava killata vain E lui Lui è sempre da solo Poraccio Lui è sempre da solo Perché nessuno lo pila La nostra Poppy Non è una Poppy Cioè fa un cazzo Letteralmente fa un cazzo Poppy Letteralmente Poppy Sta facendo un cazzo Lasciamo perdere il Talon Che Oh eh raga È 3.15 Che ci possiamo fare Quello che è il Talon Bisognerà carriarlo Si può Secondo me si può ancora vincere Io sono fiducioso Io sono fiducioso Che si possa ancora vincere Sono fiducioso Non fightate a cazzo Gentilmente Non fightate a cazzo Ho detto Non possiamo fightarli col Baron Ragazzi Ragazzi non possiamo fightarli col Baron Ve ne vedete conto Che ci fanno il culo Già in circostanze normali Voi lo fattete col Baron E questo succede No E muorici Però almeno lei c'è morta Però almeno lei c'è morta Però almeno lei c'è morta Guys We can't fight them With Baron Le Cioè Non possiamo fightarli col Baron Dovreste sapere Questa cosa molto elementare Ho bisogno della Voidstaff Vincono Potrebbero Sì 15 secondi a lei Peccato per Talon Ragazzi Peccato per Talon Molto 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 Scarso Però Non è importante È una flex Ha tutto il diritto di provarlo Cioè Ha tutto il diritto di provarlo È una flex Le flex sono fatte apposta Cioè Non gli dico niente Non mi sento in grado di dirgli nulla Lo stava provando E Alla Mamma mia Quanti danni Che fa Oh Attenzione Non è ancora finita Non è finita Vabbè raga GG Io spero comunque il video vi sia piaciuto Noi ci vediamo Stasera in streaming E domani Che ho le problemi Ciao belli Ciao belli Noi ci vediamo Ciao belli